E bentornati tutti quanti nella locanda, oggi con un nuovo video, più esattamente torniamo su Airstone per andare a vedere 6 mazzi incredibili della nuova espansione Ma prima un po' di informazioni di servizio in quanto oggi, in questo video esattamente, ad un certo punto comparirà a schermo le ultime 4 cifre per il bundle della nuova espansione Bundle che conterrà 60 bustine della nuova espansione, 10 bustine di recupero, 2 leggendarie, 1 dorso, davvero una roba devastante Quindi dovete andarvelo a prendere sicuramente, se non sapete ancora le altre parti del codice le trovate nel video di giovedì e di venerdì Appunto le prime due parti, comparirà sempre a schermo molto velocemente, invece le altre due stringhe di codice le trovate entrambe sul gruppo Telegram Oppure se non avete Telegram su Instagram, quindi seguitemi ed entrate nel gruppo e su Insta Per quanto invece riguarda le ultime informazioni di servizio e poi vi dico buona fortuna per il codice Domani, no scusate sì, domani alle 19 ci sarà una nuova espansione Quindi ovviamente saremo in live su Twitch, sul mio canale, dalle 18 che sbusteremo, porteremo tutti quanti i nuovi mazzi che vi sto per mostrare ora Quindi partiremo sicuramente alla grandissima Ma andiamo nel vivo del video e andiamo subito a vedere il primo deck Primo deck che è il sacerdote, l'abbiamo analizzata ieri la classe Se non vi siete visti la mega car review ve la potete andare a recuperare su Twitch tranquillamente quando volete Maz del sacerdote che è una classe che appunto non ha ottenuto tantissimo Infatti non ci sono tantissime nuove carte Ho pensato di costruire un Overreal Priest in questo modo E quindi come va a vincere il deck? Beh, semplicemente voi andate a giocare il 2-5 e lo potete curare con svariati modi Abbiamo la nuova leggendaria, Pip la potente Per andarvi a copiare tendenzialmente le spell da 1 Che sono molto buone in questo deck Sia cura rapida che vi permette appunto di andare a evocare più pezzi sia fan club sia girellone In particolare girellone potrebbe essere devastante La luce brucia e risveglione morti sono anche fine Da notare che giochiamo anche acqua sacra che vi dà la boccetta e quindi potete a sua volta andarla a copiare Poi per il resto la lista è abbastanza standard L'unica carta che appunto è della nuova espansione Oltre alla boccetta e oltre a Pip la potente È trasportatore ferito Che io ritengo che comunque in questo deck possa essere particolarmente buono In particolare contro mazzi token o comunque aggressivi Ecco che il trasportatore ti potrebbe dare quel comeback che potrebbe servire al mazzo Di sicuro il mazzo non è incredibile Non è un safe craft assolutamente Nessuno dei mazzi che vi dico oggi è un safe craft Però se avrete tutte quante carte Visto che non richiedono tante carte nuove Potreste valutare di andarlo a craftare O comunque di andarlo a giocare In particolare se andate a spustare Pip la potente Ecco questo potrebbe essere di sicuro un mazzo divertente E interessante da provare al day 1 Andrei avanti con invece il prossimo video Quindi passiamo direttamente al rogue Signore e signori perché dopo arriveranno le classi più piccanti Quindi il lock, il dk, tanta tanta roba Ma comunque il rogue non è da meno In quanto oggi vi presento una lista Potremmo dire un pochino forse più for fun Molto divertente Con questa ci scasseremo dalle risate Andremo a rinvenire, discoverare, trovare mille possibilità Infatti stiamo parlando di un bargain rogue Ma a livelli massimi Una lista che davvero genera un valore infinito Ovviamente con cosa andate a generare? Con rapina Con ovviamente il gioco dei gusci A tre mana che vi rinviene ulteriori carte Ma ovviamente anche dalla meccanica di sotterra Infatti ricordiamoci che il premio di sotterrato Poi ti darà 4 spell casuali Che verranno tutte ricastate con test Come se non fosse abbastanza Abbiamo pure il pozzo dei desideri all'interno In modo da ottenere dalle coin Che possiamo avere dal partner Dalla spell da 2 Oppure dal drop a 3 Eccetera eccetera Ecco Una volta ottenute le coin Voi potete giocare i leggendari Praticamente gratis con i 07 E poi andarli tutti quanti a revocare con test Praticamente un mazzo che ha una value infinita Letteralmente Perché poi test ve la potete andare a riprendere Con passo d'ombra Con ovviamente breakdance E con ombra di sfatta Quindi davvero Questo mazzo andrà a vincere sempre contro qualsiasi contro Se il meta dovesse diventare contro Ecco Questo sarà il mazzo perfetto per voi Ovviamente se il mazzo diventerà aggressivo Farete molta più fatica Magari dovete un pochino sculare Dai rinvieni e dai discover Però In linea generale Sicuramente Questo deck si preannuncia Super divertente E non vedo l'ora di andarlo a provare Devo dire Domani Alle 19 Deck Credo Assolutamente preferito La meccanica di sotterra è abbastanza buona Come abbiamo visto Tutte le carte sono più che valide E quindi Dai è che il rogue Si preannuncia Davvero Frizzante E da una classe Frizzante come il rogue Continuiamo sulla stessa onda Infatti andiamo A vedere Il mage Mage Che si presenta Anche in questo formato Un po' diverso dal solito Noi siamo abituati a vedere Un Sith mage Quindi Comunque Un mago Che gioca con I danni Ecco Questo invece E' un mazzo Che potremmo definire Più tempo In cui vuole fare Ogni turno Giocate forti E come lo va a fare Beh ovviamente Andando a citare segreti Abbiamo ovviamente L'informatrice anonima Abbiamo l'arcanolaga E il cantante Che ci permette appunto Non solo di ottenere segreti Ma di andarli anche A pescare Velocemente Abbiamo ovviamente La combo Per andare a Disotterrare i tesori Con il 2 mana Il 6 mana Il 5 mana E ovviamente La spell da 2 In questo modo Otterremo Sempre dei colossi Molto molto interessanti E comunque Delle carte tempo Molto buone Abbiamo i migliori segreti Dei mage Quindi rune Obiezione E contro incantesimo Abbiamo carte forti Come la barista E come l'orin E soprattutto Carte devastanti Come la ricercatrice Evocatore Ovviamente Vi arriverà sempre a zero In questo deck Insomma Un deck Che è molto molto interessante Io non vedo l'ora Di andarlo a giocare Perché potrebbe essere La peccola perla Che nessuno si aspetta Vedono mage Pensano Sif Ecco Voi andate a giocargli Un secret E gli esplode la testa Ecco A me Interessa molto Intriga un bel po' Sono molto curioso Della meccanica Di sotterra E insomma Anche Della Dei vari segreti Come si comporteranno Magari anche Con il nuovo secret Che potrete andare A rinvenire Un deck Che anche qui Non sembrerebbe Forse il più competitivo In assoluto In particolare Appunto magari Tra un mesetto Però Se avete già Tutte quante le carte Io ve lo suggerisco Perché Vi divertirete Un mondo Ma passiamo Un pochino Alla ciccia Perché andiamo a vedere Forse una Delle migliori classi Che abbiamo visto Ieri nella Mega Car Review Lo sciamano In versione Highlander Infatti presenta Due delle carte Più forti Delle espansione Una è certamente Il drop A 5 Leggendario Dottoressa Holiday Che vi va a mettere Una 2-9 Incredibilmente forte E l'altra Ovviamente E Reno Assieme Giochiamo Un piccolo Pacchetto Elementali In modo da poter Sfruttare La settimana Quindi in verità Ne giochiamo Un bel po' Il 2-3 Che vi da Un altro elementale Il 4-5 Il 4-3 Il 4-3 Insomma E così via Insomma Una serie di elementali Che potrebbero essere Molto buoni ETC ovviamente Per dare quella consistenza In più al deck Una lista Che senz'altro È super divertente Come tutte le liste Highlander Ha tantissimo valore Quindi può vincere Un pochino Contro tutti Ha ovviamente Anche il titano Che è davvero Tanta roba E sono super curioso Anche di provare Questa bomba Di deck Non vedo l'ora Perché i mazzi e lander Sono i miei preferiti E potrebbe essere Una figata Completa Andando avanti Invece Andiamo forse a vedere La classe principe Di questo meta Un lock Che si preannuncia Super forte In questa versione Io ve la presento Super control Quindi un control lock Che va a vincere Ovviamente Grazie alla meccanica Di sotterra Di sotterra Che viene permesso Grazie al 4-5 E grazie al drop a 2 E grazie ovviamente Alla spell Da 1 Spella 1 Che per attivare Ovviamente Deve andare a spaccare Il servitore Ma non dovrebbe essere Particolarmente difficile Avendo il koboldo La maestra Per andarvi a prendere Ovviamente Il premio finale Che otterrete Dal di sotterra E andare a uccidere Praticamente l'avversario In questo modo Per il resto Volete controllare Normalmente Quindi avete Arpa Per curarvi E pescare Serpinnus Per aggiustarvi A mano Mercante Per andarvi a curare De file Prosciugamenti Insomma E radicazione Ormai questa lista La conosciamo bene Abbiamo anche Il nuovo settimana Per andare a rimuovere Un bel po' di board La spell a 5 I soliti servitori Belli grossi E belli forti Del lock Secondo me questa lista È una bomba Se siete amanti Del control lock Questa è il deck Che non vi potete far sfuggire Per alcun Modo In assoluto Quindi forse sarà anche una delle prime liste Che andrò a giocare In assoluto Martedì Perché Già mi emoziono A vedere Il nuovo leggendario E tutto quanto Il resto Andiamo a concludere Il video di oggi Con l'ultima classe Che vi presento Perché sì Domani arriveranno Le altre 5 classi Tra cui Il druido Signore e signori Il druido Che è letteralmente Una bomba Ma appunto Domani vi mostrerò La lista del druido Perché Ora tocca al DK Che non è da meno DK che io Mi piace Vedere in formato Rainbow Formato Rainbow Che è davvero Competitivo Secondo me È super divertente Questa lista Gioca un pochino Tutto per andare Appunto a controllare Per andare a far cadaveri Per andare a disotterrare E poter andare a giocare All'infinito Praticamente La resca Che ogni volta Ti viene rievocata Con il reborn Continua a rubare I pezzi Avversario Ovviamente la finisher È la spella 10 Che finalmente Dovrebbe trovare Un Come potremmo definirlo Un modo di vivere Un modo di essere Perché potrebbe essere Davvero molto forte Il resto Dei carte Sono tutte carte Super Tempo Super value based Il 2-1 Che continua a rinascere Ogni volta che disotterri Insomma A me la lista Piace tantissimo Ha un sacco di valore Ha un sacco di carte Fighe Bellissime Anche il DK Si preannuncia Essere una bomba Come abbiamo detto L'espansione È pienamente promossa Ieri abbiamo dato Un 7 e mezzo E Sembra davvero Tanta roba Sia la meccanica di sotterra Che ricorda un pochino Forse la meccanica Galacron Sia la meccanica monocopia Che invece ricorda Molto Salvatore di Uldum Ecco Quelle due espansioni Erano state forse Due delle migliori Espansioni di tutto il tempo Insieme ad Angoro Ecco Questa espansione Riunisce Queste due meccaniche All'interno di una sola E quindi si preannuncia Essere davvero Una figata Incredibile Ragazzi Che dire Io direi che È tutto per il video Vi ricordo Stasera uscirà Un nuovo video Di Airstone Non di Warcraft Rumble In quanto Ci sarà un video In collaborazione Con Silentnik Molto molto carino Quindi vi suggerisco Di andarlo a vedere Domani uscirà Appunto alle 13 Il nuovo video Con altre 5 liste Tra cui il druido E invece Alle 19 Inizierà Scusate Alle 18 Inizierà la live In preparazione Alla nuova espansione Che uscirà Il 19 Quindi vi voglio Tutti i belli presenti Su Twitch Vi ricordo Il canale Qui in descrizione Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi Sia su Youtube Sia su Twitch Un bel mi piace E niente Spero che abbiate Trovato Il codice Ragazzi E' davvero tutto Noi ci vediamo Quindi stasera Ciao ciao